Benvenuti in un'altra puntata del TGLT4blog. La prima notizia riguarda il calcio. Campionato nazionale Serie D e la partita sarà tra il Portogruaro e Montecchio Maggiore il 23 ottobre alle ore 15. La prossima notizia parla di un evento musicale a Portogruaro presso il Teatro Comunale Luigi Russolo. Venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 21. Si esibirà FVG Orchestra e i temi saranno La vita terrena e La vita celeste. In omaggio a Pier Paolo Pasolini con Anna Maria Dell'Oste soprano e Paolo Paroni direttore. Venerdì 11 novembre si terrà un altro evento musicale. Suonerà il violoncello Enrico Bronzi e il pianoforte Francesca Sperandeo. Nella prossima notizia vi parlerò di talenti letterali con incontri di libri e scrittori in Biblioteca Portogruaro. Venerdì 21 ottobre ore 18.15 si sarà l'inaugurazione. Nei mesi a seguire, fino a dicembre, si terranno cinque incontri. Il primo sarà il 21 ottobre 2022. Il libro è intitolato La storia del Veneto. L'autore è Massimiliano Santarossa mentre il lettore del libro sarà Francesco Iori. Il secondo incontro si svolgerà il 4 novembre 2022. Il libro è intitolato Chelsea e sangue. L'autore è Paola Tantulli e Massimiliano Santarossa sarà il lettore. Il terzo incontro si terrà l'11 novembre 2022. Il libro è intitolato Alla fine dei baci. L'autore è Paola Tantulli e Marco Anzovino sarà il lettore. Il quarto incontro si svolgerà il 18 novembre. Il libro è intitolato Manuale Malincomico. L'autore è Paola Tantulli e Odette Copat sarà il lettore. L'ultimo incontro si terrà il 2 dicembre 2022. Il libro è intitolato Montagna madre. L'autore è Massimiliano Santarossa e Antonio G. Bortoluzzi sarà il lettore. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.portogruaroeventi.it Incontri a partecipazione libera e gratuita. Ora riparlerò di cinema. Ci saranno dei percorsi tematici dedicati alla settima arte in Biblioteca Portogruaro per scoprire le storie e le geografie del cinema, le tecniche di narrazione, stili, fotografie e montaggi. con l'ascolto di interviste e visioni di film a cura di Alessandro Venier, esperto di cinema. Le conferenze inizieranno mercoledì 19 ottobre, il 26 novembre e per finire il 14 dicembre 2022. La visione del film sarà alle ore 18.15, mercoledì 26 ottobre, il 23 novembre e il 21 dicembre 2022. È necessaria l'iscrizione ai servizi della Biblioteca. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.portogruaroeventi.it L'evento della prossima notizia è intitolato Punto di gusto. Sarà un viaggio tra le persone, i gusti, i sapori tipici italiani che vivono appena le loro radici e le loro radici enogastronomiche. Questo avvenimento si svolgerà il 28-29-30 ottobre 2022 a Portogruaro in Piazza della Repubblica dalle ore 9 alle ore 20 e 30. L'associazione che ha creato questo evento si chiama Associazione degli Eventi. La notizia seguente riguarda una mostra fotografica intitolata Sguardi. Il fotografo è Carlo Spaliviero e la mostra inizierà dal 29 ottobre al 20 novembre. L'inaugurazione si terrà il 29 ottobre alle ore 18 a cura di Boris Brollo. Gli orari di visita saranno dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 e 30 il mattino. Il pomeriggio invece dalle ore 16 alle ore 19 e 30. La mostra si terrà nell'androne 51 a Portogruaro. L'ultima notizia Convocazione Quinta Commissione Consigliare Servizi Sociali Sociosanitari Solidarietà Istruzione E pari opportunità Le SS.ll. Ai sensi dell'articolo 14 del vigente regolamento del Consiglio Comunale sono invitate alla riunione che si terrà presso la sede municipale martedì 25 ottobre 2022 alle ore 18 e 30 per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno. Il primo, aggiornamento sulla situazione dell'IPAB G.Francescon. La seconda, varie ed eventuali. Per la discussione del punto primo, sarà presente la presidente dell'IPAB G.Francescon, Caterina Pirelli. Grazie dell'ascolto, alla prossima puntata TGLT4Blog.